Da vice sindaco non posso che rispettare una legge così come è normale che sia. Da vice sindaco poi non posso non riscontrare la correttezza formale dell'istruttoria fatta dalla polizia municipale. Da vice sindaco e da cittadina però insisto ancora una volta sulla necessità di cambiare una legge ormai vecchia che procede per schemi astratti e poco logici. Così Lucia Tanti che questa mattina ha incontrato i familiari degli anziani ospiti della casa famiglia di zona Giotto chiusa qualche giorno fa. Si tratta della struttura della società Casa di Lucia che prende il nome di Armonia. Sin dal 2017 prosegue il vice sindaco con l'allora assessore regionale alla sanità ho affrontato il tema della possibilità di dare alle famiglie di anziani non autosufficienti la possibilità di potersi organizzare assieme e anche in autonomia convinta che l'idea che solo le residenze assistite e gestite non possano essere l'unica risposta possibile. Se è ovvio che servono i controlli è altrettanto evidente che è inaccettabile che alcune famiglie non possano decidere di curare i loro anziani scegliendo di farli vivere insieme ed organizzando il modo in cui prendersi cura di loro dividendo spese e sostanze e questo dovrebbe valere anche per gli anziani non autosufficienti ovviamente vigilando sulla loro condizione. La legge conclude e in questo caso però non ammette strade alternative. esco da questo incontro mortificata sapendo che ho incontrato familiari coscienziosi a cui non stiamo garantendo serenità.